Giulio Gallera che è l'assessore al reddito d'autonomia e inclusione sociale della regione Lombardia. Anche a lui stiamo vedendo piano piano tutti aspetti diversi che non sono slegati tra di loro ma sono veramente tessere di uno stesso mosaico. Quindi ci sta apparendo l'intera figura di questo mosaico. Anche a lui chiedo di entrare in questo ragionamento che è stata la cifra di questi nostri due giorni, abbattere gli steccati, contaminare le culture, diceva Lestorizzi, integrare le politiche, unificare i sistemi. Ecco questo senso un po' di una regione che si muove all'unisono verso l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Prego. Grazie mille. Ha detto molto bene, no? Cioè quando al di là dei tanti dibattiti che qualcuno ha definito teatrini, che un po' animano le pagine dei giornali, talk show televisivi, che provano a dividere e a mettere qualcuno in alcune caselle, qualcuno in qualcun'altra. Quando poi ci si approccia invece ai problemi concreti, alle visioni di risoluzione dei problemi sul territorio, nelle nostre comunità, alla fine le divisioni sono veramente soltanto poche e due e gli approcci sono molto comuni e le cose che abbiamo sentito dire da persone che non è che si sono trovate prima per condividere le riflessioni e le cose da dire sono veramente estremamente omogenee. Io stavo ascoltando prima gli altri intervenuti e siccome siamo tutti molto social, stavo anche con un orecchio ascoltavo, con un altro guardavo e ho trovato una bellissima frase dove dice di Milton Friedman se tu paghi la gente che non lavora e la tassi quando lavora, non essere sorpreso se produci disoccupazione e assistenzialismo. Noi facciamo in Lombardia qualcosa di completamente diverso e uniamo insieme in quello che io amo definire un pensiero e un approccio liberale che mette le istituzioni al servizio di cittadino, l'approccio di attenzione al territorio che possiamo definire federalista, l'attenzione all'individuo e alla sua componente più essenziale che poi è al centro di tutte le politiche come può essere la famiglia, proprio in una logica in cui proviamo a ridargli degli strumenti per essere un soggetto attivo al di là delle proprie condizioni e di partenza e biologiche e fisiche all'interno della società e quindi una persona, abbiamo detto che ha una malattia, una malattia cronica che deve essere messa nelle condizioni di vivere al meglio la propria dimensione umana e quindi relazionale a prescindere dalla propria malattia, una persona che ha una propria fragilità, che ha una vulnerabilità momentanea dovuta da una pluralità di condizioni economiche, sociali, psicologiche, personali, deve essere aiutato a ritrovare e a mantenere quella che noi abbiamo definito l'autonomia e quindi una propria posizione positiva e utile all'interno della comunità, utile al benessere di tu collettivo, al bene comune, alla crescita e alla prosperità della società. Questo è quello che facciamo e come lo facciamo? Immaginando che non ci sia solo una risposta pubblica, anzi, l'hanno detto tutti, la sussidiarietà, il pubblico interviene in una funzione di regia, nel condividere insieme ai tanti corpi intermedi a coloro che si muovono sul territorio delle strategie e a controllare le modalità con cui poi le azioni si muovono sul territorio ma soprattutto oggi in cui le risorse sono sempre più scarse nel cercare di mettere insieme con delle reti, con delle valutazioni delle esigenze che si modificano da territorio a territorio le tante capacità, le tante energie che ci sono fortunatamente nella nostra ricca da tutti i punti di vista terra di Lombardia. E allora sulla, è importante anche in questa sede sottolineare che accanto, l'abbiamo già detto molte volte, ma accanto alla grande riforma della sanitaria e quindi che ha messo insieme la sanità e il socio sanitario, noi comunque non solo non abbiamo voluto trascurare il fatto che poi rispetto alla vulnerabilità e la fragilità c'è tutto un mondo che non per forza, fortunatamente, ruota intorno alla sanità e al socio sanitario, cioè la vulnerabilità e la fragilità non può trovare solo una risposta nell'ospedale o comunque nelle strutture socio sanitarie, ma c'è una necessità e noi l'abbiamo voluto ribadire attraverso la creazione di un assessorato che ha una vocazione squisitamente sociale che poi noi dobbiamo aiutare all'interno della società le persone che hanno maggiori difficoltà proprio a ritrovare la loro autonomia. E come lo facciamo? Lo facciamo mettendo insieme attraverso una politica di reti che si sta andando a sviluppare a seconda delle problematicità che ci sono e nelle reti mettiamo sullo stesso piano le istituzioni e quindi la regione, gli enti locali che hanno un ruolo fondamentale perché sono i primi che possono intercettare, interpretare il bisogno e quindi in qualche modo riuscire a valutare nel senso più sistemico i bisogni delle singole comunità. Ma allo stesso modo anche il privato sociale, l'associazionismo, il volontariato che non deve avere un ruolo accessorio ma deve essere assolutamente uno dei grandi protagonisti di questa rete e quindi della capacità di dare delle risposte. Quindi una serie di soggetti che sono sullo stesso livello. Per far questo è chiaro che bisogna avere una grande capacità di ascolto per cui la pubblica amministrazione, anche qui forse ci differenzia poi da una parte all'altra, non sono istituzioni che ritengono di avere la verità assoluta, che non è che siccome sono elette dai cittadini a scadenze regolari per questo sono le tenutarie del verbo assoluto e che sanno come si risolvono i problemi, ma le istituzioni che hanno la capacità di entrare in ascolto di tutti i soggetti, sia i portatori di interessi economici che in queste società sono importanti e fondamentali, si dice i soldi dove sono. Bene, allora noi abbiamo sempre la grande forza e autorevolezza di guardare negli occhi coloro che sono portatori di interessi economici personali, poetari perché le aziende profit fanno i loro interessi, ma chiediamo a loro nel metterli nelle condizioni di svolgere al meglio i loro interessi, anche di darci una mano a fare l'interesse collettivo, perché questo porta un benessere complessivo a tutti e quindi utilizziamo un'amministrazione autorevole alla capacità di utilizzare al meglio anche dal punto di vista i soggetti economici, ma poi anche avendo la capacità di entrare, di ascolto e di raccogliere il meglio di tutto quello straordinario mondo del no profit, del volontariato e dell'associazionismo di cui la nostra regione è estremamente ricca, che hanno voglia di essere protagonisti, che hanno voglia non solo di essere coloro che danno una mano, ma di essere considerati partner e protagonisti di un percorso. E noi questo lo facciamo, questa è una regione che ha creato, ha il tavolo del terzo settore, che ha gli stati generali che coinvolgono tutti i corpi intermedi, e quindi c'è una grande alleanza in questa regione in cui tutti insieme si cerca di confrontarci, di capire come i bisogni mutano nel tempo e di come sono a volte anche differenziati sul territorio e tutti insieme di dare delle risposte. Per quanto riguarda l'assessorato all'inclusione sociale, per esempio sottolineo il piano quadrennale contro la violenza alle donne, noi abbiamo creato delle reti sul territorio che mettono insieme i vari soggetti delle istituzioni pubbliche che vanno dagli ospedali, i pronti soccorsi, i consultori, gli assistenti sociali, le forze dell'ordine, i magistrati, gli avvocati, i centri antiviolenza, quindi un grande mondo, una molteplicità di soggetti che tutti insieme riescono a dare una risposta di attenzione a un fenomeno che è drammatico e che coinvolge un numero crescente di persone che ha delle dimensioni di cui molte volte ci sfugge anche la definizione più ampia. Pensate, lo ripeto sempre, perché il 35% delle donne tra i 16 e i 70 anni sono state oggetto di violenze e maltrattamenti nella loro vita. In Italia parliamo di 6 milioni e 800 mila donne, quindi drammi che poi alla fine hanno delle ripercussioni complessive sulle famiglie, evidentemente sui figli e quindi sulle nuove generazioni che sono portate a volte a rivivere i loro drammi. E anche qui quindi c'è un insieme di realtà che tutti insieme cercano di affrontare le tematiche. Abbiamo le reti di conciliazione, anche qui Regione Lombardia che utilizza una leva straordinaria che è quella delle opportunità che hanno le aziende per far migliorare la qualità della vita dei loro dipendenti attraverso una serie di servizi che vengono offerti ai propri dipendenti ma intercettando questa disponibilità economica delle aziende mettendola in sinergia, in contatto con le realtà territoriali. Allora Regione Lombardia è l'unica regione che ha 15 reti territoriali che destina delle risorse a queste reti ai capifila che sono le ATS, le ex ASL e che definiscono sul territorio quali sono le priorità di intervento dialogano con le aziende perché il welfare aziendale possa avere una ricaduta anche efficace sul welfare territoriale sia complementare al welfare territoriale perché l'offrire, il creare un nido aziendale il creare un nido aziendale o il pagare il centro estivo ai bambini non solo aiuta i figli dei dipendenti ma in qualche modo crea e migliora anche evidentemente la risposta e la capacità sul territorio di dare un sostegno alla qualità della vita delle famiglie e quindi anche qui una grande capacità tutti insieme sul territorio lombardo di fare rete ecco questa penso sia la nostra grande peculiarità la peculiarità di questa regione la peculiarità di un'istituzione che nel vero senso della parola ha la capacità di mettersi al servizio delle proprie comunità e di svolgere fino in fondo il ruolo di regia il ruolo di motivatore e ruolo anche di individuatore di quelle che sono le grandi opportunità che devono essere messe a sistema per il bene dei nostri lombardi grazie grazie grazie